Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di entrare nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. La sera del 26 aprile, mentre si trovava ospite al programma E quarto Grado, la madre di Alessandro Venturelli ha lanciato un appello che ha davvero colpito. Ha raccontato di come, nel caso il caso del figlio non venisse chiuso, sia fondamentale e continuare la ricerca, mostrando una determinazione incredibile nel non voler cedere all'angoscia. Ha condiviso con il pubblico due segnalazioni recenti, che hanno riportato speranza nella famiglia. La prima, arrivata da Milano, parlava di una ragazza che aveva avvistato un giovane somigliante ad Alessandro in una discoteca di Viale Forlanini. Anche se non è riuscita a scattare una foto, ha dato dettagli importanti, come gli orecchini e la maglia a collo alto che il ragazzo indossava. La ragazza ha subito denunciato l'accaduto alle autorità, permettendo loro di visionare le telecamere della discoteca. La seconda segnalazione sembra arrivare da Varese, dove si sta ancora verificando l'autenticità dell'avvistamento tramite le telecamere. Roberta ha sottolineato l'importanza di estendere la ricerca al di là dei confini italiani, ricordando che le ultime segnalazioni di avvistamenti di Alessandro provenivano dall'Olanda, dove la madre ha più volte viaggiato. Anche gli ultimi movimenti e contatti del cellulare sembravano indicare quel paese. Nonostante le autorità locali si siano mostrate disponibili a collaborare, l'ordine di indagine europeo richiesto dalla procura di Modena non è ancora stato emesso.